Eccoci ritornati in diretta, dunque dopo aver ripercorso quelle che sono state alcune delle attività della pastorale giovanile del santuario della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, questa mattina abbiamo qui in studio con noi Fra Pasquale Cianci che della pastorale giovanile della provincia ne è il responsabile. Innanzitutto buongiorno, pace bene e bentrovato. Buongiorno a te, Leo e grazie per l'invito. Grazie a te per averlo accolto. Dunque vogliamo ripercorrere in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione prima di proseguire con il nostro programma quelle che sono state alcune delle tappe significative. Non sono tutte, abbiamo ascoltato quelle più importanti a partire proprio dal mese di maggio che stiamo vivendo in questi giorni, che si appresta a concludersi il 31 e che negli anni passati ha visto radunate sotto il nome di Padre Pio davvero migliaia di giovani attraverso anche gli strumenti di comunicazione sociale che sono stati un grande supporto, hanno dato davvero una grande mano. Sì, effettivamente come dici tu Leo, migliaia di giovani perché questa iniziativa è nata tanti anni fa nel cuore della città, così come abbiamo visto. Si voleva proprio dare un modo nuovo, fresco ai giovani di pregare il rosario nel cuore del paese. Poi il lockdown sembrava ci avesse costretti un po' a stare chiusi e invece paradossalmente proprio come la forza dello Spirito Santo che vedremo proprio domenica prossima, i discepoli chiusi nel cenacolo sono stati rilanciati poi ad annunziare con coraggio. E così è avvenuto per il mese di maggio, non immaginavamo che noi solo frati a pregare il rosario fossero in comunione con noi poi tantissimi giovani che ci seguivano grazie anche ai mezzi che abbiamo come dono di Dio, ecco la tv, i mezzi social. È un mese di maggio quello che stiamo vivendo come abbiamo avuto modo di ribadire nel corso delle varie giornate in preparazione alla giornata mondiale della gioventù di Lisbona, abbiamo sviscerato questo argomento davvero in tanti modi io però vorrei concentrarmi adesso fra Pasquale su un altro evento che vi vedrà protagonisti non appena terminato il mese di maggio quindi dal primo di giugno ed è il perdono del Gargano, un evento importante nato potremmo dire sulle orme di San Francesco e di San Pio che hanno percorso questo tratto tra San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo che è la sede dell'Arcangelo Michele come è definito e che quest'anno avrà un protagonista d'eccezione potremmo dire così. Sì, noi quest'anno abbiamo dato un significato particolare a questo cammino, ecco una sorta di testimonianza in cui i giovani vogliono con l'esempio di San Michele, di Padre Pio vincere il male con il bene quindi i testimoni che in un certo qual modo hanno vinto il male usando l'arma del bene e uno di questi quest'anno proprio Livatino, il beato Rosario Livatino del quale accoglieremo proprio la reliquia la sua camicia è insanguinata, il giudice ragazzino come l'ha definito Mattarella accoglieremo proprio le sue reliquie verso mezzogiorno a Monte Sant'Angelo e questo segno forte, ecco questo sangue, questa testimonianza di cui è impregnata questa camicia camminerà con noi, ci accompagnerà in questo cammino e la reliquia sarà poi esposta per la venerazione dei fedeli nella chiesa di Santa Maria delle Grazie per tutto il giorno del primo luglio il primo luglio che è una giornata importante, lo ricordiamo perché si ricorda l'anniversario della dedicazione e della chiesa di Santa Maria delle Grazie e della chiesa di San Pio in epoca più recente tra l'altro poi Livatino in qualche maniera con il suo esempio attraverso anche quella massima bisogna essere non solo credenti ma credibili ecco, vuole essere un monito ancora più importante per i giovani che si preparano ovviamente anche alla giornata mondiale della gioventù un altro aspetto che vorrei sottolineare fra Pasquale è quello dei weekend vocazionali che hanno contraddistinto la vostra attività sì, i weekend vocazionali sono un invito più diciamo finalizzato ad un'esperienza proprio a conoscere la nostra vita di frati magari quando ci sono dei giovani che vogliono sperimentare come vive un frate ecco, e che magari accarezzano anche l'idea di poter donare la loro vita attraverso proprio i voti francescani ecco, noi proponiamo loro questi weekend vocazionali solitamente uno al mese iniziano da ottobre e terminano a maggio e poi durante l'estate anche un'esperienza estiva di campo scuola e infine altri due aspetti che abbiamo visto nel servizio precedente le cui immagini vediamo anche nel nostro ledual sono la peregrinazio dell'abito delle stimmate di Padre Pio questa reliquia così preziosa che è stata portata anche in due luoghi significativi la Verna, il luogo in cui San Francesco ha ricevuto le stimmate appunto e Auschwitz, un luogo simbolo della follia umana nel XX secolo e l'adorazione eucaristica del giovedì che in questo mese di maggio è stata sospesa ovviamente per dare spazio al mese mariano ma che poi riprenderà a partire da settembre, anzi da ottobre per essere più precisi sì, l'adorazione comincia subito dopo San Francesco quindi il primo giovedì dopo San Francesco e termina proprio con il mese di aprile solitamente il giovedì santo è quella che conclude però la portiamo fino al mese di aprile perché poi il mese di maggio lo dedichiamo proprio alla preghiera mariana è importante pregare anche il rosario che noi stiamo pregando a questa finalità, ecco quella suggerita dal Papa per la preghiera per le guerre in atto in primis quella dell'Ucraina ma anche per le vocazioni ecco si prega il padrone della mese perché mandi nuovi operai nella sua mese e vorrei anche sottolineare fra Pasquale un evento, o meglio un'attività che ti vede direttamente protagonista che è il programma che conduci qui il mercoledì pomeriggio a partire da ciò che Papa Francesco pronuncia la mattina del mercoledì stesso nel corso dell'udienza generale la parola Francesco ai giovani prima a telecamere spente chiacchieravamo anche degli ospiti che si sono avvicendati in questo studio nel corso delle settimane e ricordiamo che mercoledì ci sarà l'ultimo appuntamento di questa stagione televisiva se ci puoi già anticipare magari chi avrai come ospite sì, avrò un ospite molto caro con il quale si è stabilita tra me e lui una bella amicizia lui è un giovane savonese che lavora nel porto di Savona però ha questa passione di travestirsi da supereroe da Spider-Man e va negli ospedali più importanti anche d'Italia e questa attività davvero ha toccato il cuore anche di tanti artisti tra cui Vasco Rossi, Neck, Mr. Ray tanti artisti davvero lo accompagnano in questa visita che lui fa in questo sorriso che lui porta ai ragazzi malati ecco-oncologici si chiama Mattia Villardita con lui voglio concludere un po' questa avventura che dico la verità con tutta umiltà ho cercato di portare avanti con tutti i miei difetti ecco non sono un giornalista non sono un presentatore sono un frate e so ecco non ho diciamo l'ardire di chissà quali belleità però ecco è stata una bella avventura perché devo dire la verità è stata l'occasione per me proprio di prendere contatto con tante realtà tanti giovani tante persone anche semplici ma che vivono veramente la bellezza ecco anche della vocazione in tutte le sue svariate forme ed è significativo che anche il mezzo di comunicazione poi dia quello spazio necessario perché queste intenzioni poi diventino davvero davvero realtà per concludere Fra Pasquale abbiamo già detto siamo alle battute conclusive di questo mese di maggio così bello così particolare così partecipato in vista di questa giornata mondiale della gioventù qual è il messaggio ne avrei dati tanti ecco però ti chiedo stamattina un'esclusiva ecco per entrare un po' nel ruolo che intendi darci a partire da questo studio è un messaggio che io do prima di tutto a me stesso ecco il messaggio proprio lo slogan della GMG sull'esempio di Maria a tutti i giovani e a me che non sono proprio più giovane ecco di alzarsi sempre ogni mattina di alzarsi e di camminare in fretta una fretta però come quella di Maria carica di passione carica di amore carica di amore per il Vangelo ecco carica di Gesù così cammineremo e andremo lontano come dice anche un proverbio bene Fra Pasquale allora io ti ringrazio ormai questa è casa tua ovviamente cioè non c'è bisogno neanche di dirlo e ti aspettiamo allora mercoledì da questa parte diciamo dove sono io con la telecamera a favore per l'ultimo appuntamento della parola a Francesco e ai giovani l'ultimo appuntamento di questa stagione televisiva anche in compagnia di Papa Francesco e poi avremo modo ovviamente di aggiornarci nelle prossime settimane per quanto riguarda i dettagli organizzativi del perdono del Gargano che inizieranno ad essere più precisi a partire proprio dai primi giorni di giugno grazie ancora grazie a te in bocca al lupo e auguri per quello che tu fai grazie grazie di cuore Fra Pasquale noi ci fermiamo per la pubblicità pochi istanti di pausa e poi ritorneremo ancora una volta a Pietrelcina per ascoltare le parole del cardinale Beniamino Stelle in occasione del compleanno di Padre Pio grazie a tutti